Come preannunciato poco fa negli studi di TRM Network, il nuovo eletto sindaco di Matera, Domenico Bernardi. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato sindaco e tanti auguri innanzitutto. Auguri soprattutto alla città, auguri insomma alla comunità che mi onoro di rappresentare. Se l'aspettava questo risultato sindaco? Beh, in effetti un risultato inaspettato, almeno inizialmente, poi abbiamo notato questa attenzione da parte dei cittadini verso le nostre idee, verso i nostri contenuti. Piano piano è cresciuta la curiosità ed è la cosa più bella quando vedi cittadini curiosi, attenti alle idee, ai programmi, assolutamente. Ma tutti oggi commentano la grande forbice che l'ha diviso con l'altro candidato. Ci sono stati più errori da parte del centro-destra oppure i cittadini hanno guardato con occhio diverso e con anche curiosità forse le vostre proposte? Beh, credo che dopo un periodo appunto così delicato della nostra umanità, insomma la pandemia ci ha forse insegnato che dobbiamo essere più consapevoli nel voto. Quindi sicuramente sì, una maggiore curiosità, una maggiore attenzione a quello che può essere il futuro di una città. E probabilmente anche i toni un po' a volte sopra le righe hanno, diciamo, allarmato qualche cittadino, preoccupato qualche cittadino, perché oggi c'è bisogno di maggiore equilibrio, di maggiore armonia. Quindi probabilmente qualche errore è stato fatto, ma pensiamo soprattutto adesso al bene della città andare avanti. E si potrà lavorare in maniera costruttiva anche con l'opposizione, senza problemi. Ho notato che il Consiglio Comunale, che peraltro con 11 donne, sarà un consiglio, insomma, credo abbastanza lineare, e costruttivo, insomma, vedendo anche proprio le persone che sarebbero in Consiglio Comunale. 20 consiglieri in maggioranza, quindi comunque una maggioranza stabile, su cui poter lavorare bene. Assolutamente, assolutamente. Penso che non avremo grossi problemi. Infatti già stiamo ragionando su quello che può essere poi il governo, la Giunta, quindi il governo della città, che sarà espressione di questa bella coalizione che ci ha accompagnato dall'inizio, insomma, fino alla fine. Ecco, a proposito di questo, Sindaco, c'è stato chi, anche a livello nazionale, ha commesso degli errori parlando di apparentamenti. Non c'è stato alcun apparentamento, ma comunque la sua coalizione è stata atipica. Sì, qualche media ha dato qualche notizia, diciamo, un po' forzata. Non c'è stato alcun apparentamento, né alcuna alleanza, solamente che nella parte finale del ballottaggio ci sono stati, diciamo, degli appoggi esterni da parte di partiti e movimenti politici, diciamo, del centro-sinistra. Questo ci fa piacere, è ovvio che oggi dobbiamo instaurare in città un nuovo rapporto di dialogo, speriamo anche qui costruttivo, speriamo con soggetti che possano, appunto, riprendere un cammino sul solco, diciamo, della credibilità politica e quando ciò avverrà potremo, all'interno e fuori dal Consiglio Comunale, intraprendere, ripeto, un dialogo, un tavolo, insomma, politico. Penso che il panorama politico sarà, ovviamente, beneficiato da questa nuova relazione, qualora dovesse nascere, ma la Giunta, ripeto, il Governo cittadino, sarà espressione della coalizione che ci ha visto, insomma, intraprendere questo bel cammino. Aspetteremo, allora, i nomi della Giunta. Emozione e responsabilità, è riuscito a chiudere occhio stanotte? Sì, ecco, dal punto di vista più umano possiamo dire che, insomma, sicuramente la politica è privazione, privazione di affetti, a volte con un figlio, insomma, o comunque di sonno, privazione da vari punti di vista, però è anche un arricchimento, una grande emozione, io penso che capiti una volta nella vita essere il sindaco di una città bellissima come Matera e quindi ci metterò, ci metteremo il massimo impegno, il massimo entusiasmo, creando una squadra che possa essere davvero di alto profilo, abile a livello politico e competente da un altro verso. Come proietterà la città nel futuro? La proietteremo guardando soprattutto all'innovazione, alle tecnologie, perché dobbiamo pensare a una Matera che possa essere competitiva con altre capitali d'Europa, quindi sul piano del turismo, ma anche sul piano del manifatturiero, dell'artigianato, del design, puntando alle nostre peculiarità. Dobbiamo ripartire dalle nostre radici, però dobbiamo pensare anche agli ultimi, quindi proietteremo la città, diciamo, verso il futuro con un occhio di riguardo verso le debolezze che questa pandemia ha accentuato. Vediamo se siamo pronti con il collegamento telefonico con la sottosegretaria Almise Mirella Agliuzzi, che tanto ci ha creduto in questo progetto e l'ha portato a casa con un sindaco 5 Stelle e sostenuto anche da altre tre liste nella città di Matera. Buongiorno sottosegretaria. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Questa vittoria di Domenico Bennardi vale quanto la vittoria del SIA al referendum o ancora di più? No, io credo che per noi materani valga molto di più perché rappresenta un valore ancora più importante per la città di Matera e rappresenta anche un laboratorio nazionale, mi permesso di dire, perché cifre del genere che abbiamo raggiunto con il voto dei materani, che ringrazio nuovamente, non sono avvenuti in nessun altro capoluogo d'Italia. Noi siamo stati davvero i primi rispetto a tutti e anche gli altri capoluoghi che sono andati a votare e tra l'altro anche i primi come lista che aveva all'interno il Movimento 5 Stelle. Quindi Matera ha risposto benissimo e siamo felicissimi ovviamente. Anche a livello nazionale il Movimento 5 Stelle, sostenuto anche da altre liste, ha funzionato? Sì, vuol dire che il modello delle coalizioni funziona, è un modello vincente ma deve essere portato avanti per tempo. Noi siamo partiti da un programma condiviso mesi fa, non è stato nulla di improvvisato, abbiamo condiviso insieme un percorso e così anche nelle altre città dove i cittadini hanno premiato questo progetto, l'hanno premiato perché c'è stato un lavoro a monte importante. Ricordiamo che tra l'altro il Movimento 5 Stelle è una forza politica presente nella città dei Sassi ormai da dieci anni, ci siamo presentati la prima volta nel 2010, nel 2015 abbiamo preso il primo consigliere comunale, abbiamo dei parlamentari eletti, abbiamo un consigliere regionale, quindi siamo già ben rappresentati. Ci eravamo resi conto dell'importanza di questo ruolo che aveva il Movimento 5 Stelle già lo scorso anno con le regionali dove il Movimento 5 Stelle fu la prima forza politica. Lo ha detto sotto voce ma lo ha detto ai nostri microfoni il Ministro Di Maio ha dei progetti per Matera. Sì, chiaramente lui tornerà sabato, tornerà sabato come è stato annunciato anche dal Sindaco e magari ci potrà dire anche di più nello specifico perché come ha anche raccontato durante il suo ultimo comizio che è a Matera, vuole dare una visione ancora più internazionale alla città dei Sassi che se lo merita. Grazie alla sottosegretaria Almise Mirella Agliuzzi, grazie davvero per questo intervento. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. Sindaco, oggi ci sarà il passaggio di consegne con Raffaello De Ruggeri che rapportò a Vracol, suo predecessore che ieri tra l'altro ha parlato dei tanti progetti che erano ancora in cantiere e alcuni si sono fermati anche a causa della pandemia. Sì, un rapporto assolutamente di dialogo, di continuità su queste progettualità che sono molto belle e che possono portare davvero Matera al clamore che merita. Io vorrei ringraziare l'avvocato De Ruggeri perché è riuscito con lungimiranza ad attirare attenzioni a livello nazionale e internazionale e a traghettare Matera in questo delicato processo di capitale europeo della cultura con responsabilità e con, come dire, anche una capacità di oratoria, di dialogo, di confronto a livello nazionale, insomma, non da tutti. Quindi noi dovremo cercare di continuare ora sul solco di quei progetti lì, già avviati, senza disperdere le energie investite su Matera e però, insomma, cercare di fare ancora meglio, cambiare appunto in meglio, come il nostro claim, non so, slogan, ci sono tante criticità. Ora, al di là anche della visibilità internazionale, ci sono anche molte problematiche, proprio partendo dalle nostre periferie, dei nostri borghi, quindi lavoreremo anche su quello. È una domanda che si fa a tutti i neosindaci. Cosa farà nei primi 100 giorni? Nei primi 100 giorni abbiamo tantissime, appunto, criticità. Dovremmo partire sicuramente da una presa di posizione sulla difesa della sanità materana. Io vorrei, diciamo, invitare il governatore Barri, l'assessore Leone, in un consiglio comunale aperto. Aperto vuol dire che, appunto, i cittadini potranno porre domande e avremo l'opportunità di avere, a verbale, un documento scritto su una posizione definitiva circa questa bozza di riforma sanitaria, per noi molto importante. Adesso veniamo proprio da una pandemia e dobbiamo, come dire, rassicurare ai cittadini che la sanità materana venga tutelata ad ogni costo. Poi lavorerò con i dipendenti, nel senso mi confronterò con i dipendenti comunali, con i dirigenti, cercheremo di capire quali e quanti sono le competenze e quindi cercheremo di metterli nelle condizioni migliori di operare, anche ascoltando loro le varie, magari, problematiche. Proveremo, insomma, a ottimizzare, come dire, la macchina comunale. Da imprenditore, dirigente, insomma, del privato, posso magari mettere anche in considerazione alcune soluzioni di, diciamo, di maggiore dinamicità per fare in modo che questa macchina possa essere più snella possibile. E poi c'è da lavorare. Ovviamente vediamo un po' quello che si può fare per il Natale, e gli eventi natalizi, insomma, anche se la pandemia ci lascia oggi grandi incertezze, insomma, però dobbiamo ripartire proprio da queste capacità, insomma, che abbiamo. Il turismo ha un ruolo fondamentale nella città di Matera, lo dicono gli esperti, ma se l'ultimo studio, puntando su un turismo di qualità, il PIL può crescere fino al 5%. Com'è a riuscire in questa impresa? Ebbene, possiamo riuscire, guardando alla città come una meta turistica a livello nazionale e internazionale, alzando quella sticella di qualità del turismo. Quindi la nostra visione è un turismo di qualità. Visione, programmazione, che ahimè, devo dire, finora non sono state protagoniste, insomma, nella politica turistica della città. Quindi c'è bisogno di un maggiore ascolto, anche qui confronto con le associazioni, gli operatori del turismo e insieme possiamo delineare delle strategie ben precise, insomma, capire su quali segmenti del turismo puntare e da lì avviare un piano, appunto, di, come dire, un piano strategico per il turismo coinvolgendo esperti senza fretta. Prendiamoci il tempo necessario, con ponderazione andiamo a capire su quali segmenti puntare e poi facendo rete, ripeto, con i tanti operatori possiamo davvero creare un percorso entusiasmante verso il turismo legato al cinema, legato al bike, allo sport, alla religione, per dire, andremo a definire insieme agli operatori che vivono ogni giorno queste situazioni, anche le guide turistiche, e da lì partiremo con un progetto di fattibilità. Lo strumento è il portale di Welcome, a materia un portale di incoming, a cui io tengo molto. Ci sono grandi aspettative da parte dei cittadini, sente addosso questo peso? Assolutamente sì, lo devo sentire, perché insomma siamo certamente emozionati, però ci vuole anche motivazione, convinzione, che sono, ecco, quei sentimenti che nascono proprio da un senso di responsabilità verso i tanti cittadini che giustamente hanno molte aspettative, e quindi vorrei i cittadini che fossero ancora sempre vigili, che possano indicarci criticità problematiche, ma anche suggerimenti, proposte. Spesso in questi giorni mi hanno detto molti cittadini che non abbiamo avuto modo di essere ascoltati anche su proposte a costo zero che potessero migliorare la città. Si può dare ascolto a tutti, insomma, vorrei farmi ispirare anche proprio dai nostri concittadini, fino anche dai bambini. Siamo in chiusura, Sindaco, ma un'ultima curiosità. Il Sindaco è naturalmente la persona più esposta, ma fondamentale il lavoro degli assessori e dei dirigenti. Serve tanta competenza? Assolutamente sì, partiremo proprio da un alto profilo, il più alto possibile a livello di competenza. Io ho detto alla mia coalizione voglio vedere i curricula, voglio leggere i profili, è importante anche una conoscenza delle lingue, oggi siamo una capitale europea, internazionale, e ovvio anche l'abilità politica è importante, perché bisogna saper mediare tra le varie anime, tra le tante anime di questa città, quindi associazioni, cittadini, insomma, per cui abbiamo bisogno di abilità politica da un lato e competenza dall'altro. Hai idea sui tempi per la nomina dell'Aggiunta? Cercheremo di non essere troppo lunghi con i tempi, insomma, abbiamo già delle idee, stasera mi vedo anche un attimo con, iniziamo le consultazioni, quindi con la coalizione, e cercheremo, insomma, di non rallentare troppo questo processo, però, attenzione, massima ponderazione anche nelle scelte, insomma, anche se poi gli assessori si possono eventualmente cambiare, però mi piacerebbe un governo, insomma, stabile, duraturo, che non cambi visioni, regole, insomma, anche all'interno della Giunta. E' forse una delle, la prima intervista che fa da Sindaco, e allora, come ci salutiamo, Sindaco, con quale messaggio alla città? Un messaggio di passione da un lato, perché siamo riusciti a portare molte persone che non votavano, quindi un messaggio di passione, probabilmente, ed è questa una delle soddisfazioni più grandi, abbiamo fatto riscoprire un po' la passione verso la politica, ma anche un messaggio di speranza. Speriamo davvero che Matera possa tornare a essere, insomma, una capitale veramente di livello internazionale, inclusiva, tollerante, ma anche dinamica, intraprendente, facendo rete a livello infrastrutturale con la regione e con le regioni limitrofe, insomma, faremo di tutto perché possa essere questa la città che vogliamo. In bocca al lupo, buon lavoro e tanti auguri. Grazie al neosindaco di Matera, Domenico Bennardi. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco.